Benvenuti, sono Riccardo Rivarola, referente del corso sulle applicazioni di Google e vediamo insieme come installare Google Chrome all'interno di un computer Mac Quindi vedrete il mio puntatore, lo sposto verso il basso per accedere al dock dal quale con un semplice clic apro il browser che utilizzo oltre a Safari, utilizzo Firefox, in questo caso appunto utilizzeremo proprio questo tipo di browser Appunto in questa cosiddetta cyberlesson vi mostrerò come si installa il navigatore Google Chrome Nella barra degli indirizzi che si trova qua su in alto Farò un semplice clic in modo che sia evidenziato l'url già esistente e dovrò digitare appunto l'url dal quale è possibile scaricare il software necessario per l'installazione di Chrome Quindi, digito www.google.com slash chrome Vedete che veniamo riportati alla pagina specifica dove possiamo leggere appunto che Chrome è un browser nuovo e veloce disponibile anche per Mac e esegue pagine web e applicazione a velocità eccezionale Per scaricare il software ci dovremo posizionare il cursore su questo pulsante dove possiamo leggere Scarica Google Chrome Facciamo un clic sinistro Abbiamo riportati a questa nuova pagina dove dobbiamo leggere con attenzione, questo è un consiglio per tutti Quello che sono i termini di servizio cosiddetti Una volta che siamo giunti al termine della nostra lettura Facciamo un clic sul pulsante accetta e scarica Vedete che si apre questa finestra che ci chiede, vedete il formato DMG che è specifico per il mondo Mac Ci chiede di o aprire o salvare il file A noi lasciamo questa scelta, salva file e le diciamo ok Si apre questa ulteriore finestra che ci fa vedere progressivamente il file mentre viene scaricato sul nostro computer Solitamente appunto il file viene scaricato automaticamente e richiede, almeno anche sul mondo Windows, e richiede circa 3 minuti fra l'essere scaricato e l'essere installato E comunque Google Chrome non è un semplice strumento di navigazione, bensì una moderna piattaforma in cui si eseguono pagine e applicazioni web Inoltre rappresenta anche l'interfaccia del sistema operativo Google Chrome OS Di cui verranno dotati i tablet, i netbook e i personal computer del futuro prossimo Tutti noi che siamo coinvolti nel percorso Gmail ci consideriamo dei brain workers Perché d'ora innanzi Chrome sarà sempre il nostro navigatore di riferimento Vista la mia scelta, io farò un doppio clic sul file Come vedete si apre questa ulteriore finestra che fa partire quella che è l'installazione E nel mondo Mac è un attimino diciamo anche più semplice, è un attimino diversa Perché vedete che come estensione io avrò googlechrome.app che sta per application, per applicazione E questa è la cartella delle mie applicazioni Quindi dovrò semplicemente trascinare il file, quest'icona, all'interno della cartella In modo che parte subito l'installazione Ecco una volta ultimata l'installazione Come potete notare io all'interno della cartella applicazioni Avrò anche l'icona di Google Chrome Con un doppio clic quindi lo attivo Mi viene chiesta conferma Perché è un'applicazione ovviamente scaricata da internet Quindi potrebbe essere potenzialmente pericolosa Ma sapendo bene ciò che faccio Come scelta gli dirò apri Ed ecco qui sulla destra Il nostro nuovo browser Come potete notare abbiamo aperto entrambi i due browser Quindi il nostro Firefox E se usiamo la combinazione di tasti nel caso del Mac appunto il command Ovvero la mela, il tasto della mela e il tabulatore Possiamo ritornare ed accedere appunto anche al navigatore Google Chrome L'installazione del navigatore Chrome è terminata Tuttavia prima di concludere questa cyberlesson Voglio dirvi ancora alcune cose In fondo al mio schermo Adesso sul dock potete notare che è presente anche l'icona di Google Chrome Per il momento li chiudo entrambi Al contrario del mondo Windows che rende in automatico disponibile l'icona del navigatore Google Chrome Vedete che sulla mia scrivania che corrisponde al desktop di Windows Non è stata aggiunta alcuna icona Quindi io per attivare Google Chrome Per aprirlo mi posiziono sul dock Vado nel finder Con un click lo apro Scelgo applicazioni Dopodiché con un doppio click Addo Google Chrome Ecco come si presenta la sua interfaccia Questa che vi sto mostrando in questo momento è La barra degli strumenti La possiamo notare qui in alto Vedete? Con le varie voci Web, immagini, video, maps, news, libri, gmail, altro Le vedremo poi anche in modo più dettagliato in seguito Poi Google Impostazioni di ricerca e accedi Al centro, qua su Abbiamo quella che È chiamata Omnibox E all'interno di questa possiamo digitare i termini della ricerca Ora vi mostro come si fa per entrare nel sito didasca.org Da quale si accede le nostre, in questo caso, caselle di posta Con il suffisso di At didasca.org Quindi nell'omnibox Digito www.didasca.org E premo invio Vedete che siamo ora In quella che è l'home page del sito di Didasca Dal menu che troviamo sulla sinistra Seleziono la voce My Google Apps E ci faccio un click col pulsante sinistro del mouse Ora mi trovo davanti alla schermata di benvenuto delle Google Apps Mi permetterà di accedere al servizio di posta Ecco fatto Per il momento siamo giunti al termine di questo primo video tutorial Buon lavoro Grazie a tutti